Ragazzi dopo tanto tempo quella che è stata uno dei prodotti che ha fatto più scalpore nel 2019 Arriva anche nel mio canale la nuova Vinci X Mod E ci troviamo ragazzi di fronte alla scatola della Vinci X by Vopu o Vopo come volete voi Aprendola troveremo il vano per la box, due resistenze da 0.6 in questo caso io una l'ho già tolta In questo caso abbiamo una resistenza con mesh da 0.3 ohm e l'altra da 0.6 All'interno dell'altra scatolina troviamo un cavo di ricarica, istruzioni per l'uso e certificato di originalità Passiamo ora alla vera e propria Vinci La cosa bella ragazzi è che non sembra avere lo schermo, fatta talmente bene che non sembra avere lo schermo Quando vi schiacciate il tasto fire appaie, appare lo schermo Tasto più e tasto meno quindi tasto alto più tasto in basso meno Menu molto bello completo Come potete notare troviamo stato della batteria, blocco della box, watt Quanti watt, quanti watt stiamo utilizzando, puff in questo caso io li ho resettuti da poco Tempo di erogazione, ohm della resistenza, volt di scarica Ma vediamo ora la Vinci, vediamo dove c'è la cartuccia che è resistenza Andrete a togliere resistenza, non togliere tutta la cartuccia mi raccomando Presenti i fori per le prese dell'aria da una parte e dall'altra La particolarità di questa box qual è? Che voi per andare a gestire l'aria non dovete muovere nulla Basterà semplicemente togliere la cartuccia che è a calamita Girarla per avere un tiro più contrastato o meno contrastato Questa è la cosa innovativa Vediamo una cosa un po' scomoda però quando succede questo Se io adesso ad esempio vado a regolare su 17 watt E vado a estrarre la cartuccia e girarla Tornerà a 25 watt Quindi fate attenzione che quando voi andrete a magari regolare l'aria Il wattaggio tornerà automaticamente a 25 watt Vediamo sotto il vano per la batteria Dovete far altro che svitare e poi inserire la vostra 18650 con polo positivo verso l'alto Presa per la ricarica e successivamente vediamo le scritte Vopu Ragazzi è una bellissima, o Vopo ragazzi come volete È una bellissima pod pesantina però non è affatto male Tasto fire veramente molto irattivo grazie alle resistenze a mesh Vediamo la cartuccia Capacità di 2 ml per la cartuccia della Vinci Vediamo il riempimento classico con la nostra membrana Che andrà a dirvi di aprire e inserire l'interno liquido La coil, chiamiamola così, è a pressione La resistenza è a pressione Quindi voi non dovrete fare altro che prendere e estrarre Tirando la resistenza per andare a sostituirla Uno svantaggio di questa pod, anzi un difetto a meno che non sia solo della mia È che genera veramente molta condensa Come vedete è piena di liquido Sia internamente che esternamente Quindi da risolvere un pochettino questo problema ragazzi Che altro dire raga La Vinci secondo me potrebbe essere un valido prodotto Andiamo a provarla con la svapatina E che è creata finale Ragazzi l'abbiamo vista da vicino Ora facciamo e tiriamo le somme finali Prodotto che bene o male è stato a quanto pare uno dei migliori prodotti come pod del 2019 Questa è la versione X che monta una 186,50 Avevo già fatto una live su questo prodotto E avevano già annunciato degli accessori molto interessanti per questo prodotto Che purtroppo non mi sono ancora arrivati Ma intanto parliamo della Vinci Allora cosa molto bella Mi piace gestire l'aria girando la cartuccia Così ho un bel tiro contrastato L'unica roba raga Perde tanto di quel liquido Che guardate qualche roba Perde tantissimo liquido Ecco le cartucce sono assolutamente Da strutturare meglio Perché perdono uno sfacello di liquido Attualmente sono con la cartuccia da 0,6 ohm E vi dirò la verità La cartuccia come aroma non è né magnifica a mio parere Né così malmessa Aromaticamente Riempiamo ancora un po' di liquido che sta finendo Aromaticamente si prende un sette e mezzo Quindi non è una delle migliori che io attualmente abbia provato E un po' mi dispiace perché da come l'avevano Come era stata decantata Doveva essere un prodottone Non è che mi abbia fatto così impazzire a me invece La gestione della batteria quello sì è veramente fantastica Mi piace anche la possibilità nonostante sia molto ingombrante Di avere veramente una grandissima potenza In una pod mod Arriva fino a 70 watt Quindi potete gestirla alla perfezione Aromaticamente ripeto a me non è che mi abbia fatto impazzire Ok la batteria merita tantissimo La capacità classica come tutte le pod secondo norma è di 2 ml Però allora intanto è un bel mattone Bella pesante Per me non è un problema Però magari per coloro che vogliono cercarsi Una pod che non sia tanto pesante e tanto ingombrante La Vinci X è veramente enorme Ma diciamo che questa bene o male è fatta appunto E pensata per una 18650 Diciamo che le cose innovative ci sono Però secondo me sono da migliorare Nel senso ottima la scelta delle prese dell'aria laterali E a seconda di come girate la cartuccia Vanno appunto a cambiare Cosa che però non mi fa impazzire appunto È come Anzi quanta condensa crea questa pod Perché crea veramente uno sfacello di condensa Avete visto quanto liquido è uscito dalla Vinci Allora io lo Attualmente non mi sento di Promuoverla A me non mi ha fatto impazzire Magari sarò l'unico Però a me non mi ha fatto impazzire Nella cartuccia che sto utilizzando adesso Nella resistenza che sto utilizzando adesso Mi sto svapando il mandi Viene fuori abbastanza bene Smorza molto la nota Nel cioccolato Esalta la parte secca del mais Sia con l'aria chiusa che con l'aria aperta Con le resistenze che vi danno Non è assolutamente da guancia Si può anche provare un tiro da guancia Ma secondo me andrete a scaldare troppo il tabacco Anche se potete regolare il vattaggio Però secondo me non è il massimo utilizzare un tabacco qui Ma La Vinci Anzi la Vupu O Vopo Appunto ha fatto queste due creazioni nuove Che saranno la resistenza rigenerabile E l'attacco 510 Da sostituire Alla cartuccia E far sì che la vostra Vinci Diventi una vera e propria box Anche da polmone Questo è veramente molto interessante E spero più avanti di riuscire a portarlo sul canale Attualmente ripeto Non mi sta facendo impazzire così com'è Se a mio parere Ci saranno questi due implementi Riuscirò ad averli e recensirli Utilizzando un attacco 510 O in alternativa anche una rigenerabile Secondo me questo prodotto potrebbe veramente diventare Un potenziale prodotto Per futuro 2020 Perché questi prodotti sono stati annunciati Per il futuro 2020 So anche però che Gli attacchi 510 Sono stati anche ritirati dal mercato Erano già stati messi sul mercato Ma sono stati anche ritirati Dal mercato per problemi tecnici Spero che gli rimandino prima al possibile Nuovo in commercio Perché secondo me Saranno veramente tanta roba Raga che altro dire Che dal mio angolo dello swap è tutto Il vostro DJ Vise conclude Va a dirvi Buona giornata a tutti Ciao raga Buona giornata a tutti 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 Buona giornata a tutti